Buongiorno a tutti e ben ritrovati a punto di contatto. Oggi parliamo della bolletta dell'energia elettrica perché sono in arrivo importanti novità. Dal 2018 infatti verrà abolito il mercato tutelato in favore del mercato libero. Questo cambiamento sta già portando un pochino di confusione negli utenti perché non sanno come orientarsi nella giungla delle offerte e delle promozioni. Ne parliamo oggi con la nostra ospite, ve la presento, è Giovanna Dalterio, RSU FLAI CISL Reti al GSE che è il gestore di servizi elettrici. Buongiorno e grazie di essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Allora abbiamo detto che dal 2018 c'è questo cambiamento, il mercato diventa solo libero. Ecco ci spiega un pochino che cosa accadrà nello specifico? Premesso, è necessario fare una premessa nel senso che spiegare che il processo di liberalizzazione è partito dal 1999 con il decreto Bersani e aveva già allora l'obiettivo di abbassare il prezzo dell'energia. Noi oggi possiamo dire con consapevolezza che questo obiettivo non è stato raggiunto. Il 20 febbraio scorso il governo ha approvato nel disegno di legge concorrenza l'eliminazione del mercato di maggior tutela sia per l'elettricità che per il gas con lo stesso identico obiettivo. Quindi dal 2018 non ci saranno più i prezzi di riferimento attualmente stabiliti dall'autorità energia elettrica e il gas. Saranno interessati 29 milioni di utenti sia tra utenze domestiche che piccole imprese. Il 25% di questi 29 milioni li abbiamo oggi sul mercato libero. Pertanto il rimanente 75% è interessata da questa nuova normativa. Ecco questo 75% che però appunto è già oggi un po' incerto perché non sa insomma a quale fornitore rivolgersi. Ecco ma in caso un po' di scorrettezze, di errori anche nella bolletta elettrica a chi ci si potrà rivolgere? Infatti la lacuna maggiore di questi ultimi dieci anni è stata proprio la mancanza di informazione nei confronti del piccolo utente. Per quanto le istituzioni si siano date da fare però bisogna anche considerare la cultura che noi abbiamo della bolletta che arriva a casa, di quanto non siamo abituati ad andare nella rete e consultare i vari siti dei diversi fornitori che oggi il mercato libero ci presenta. Pertanto è importante che le modalità che verranno messe in campo per questa nuova normativa vedano coinvolte le associazioni dei consumatori, le organizzazioni sindacali e tutti quei movimenti che hanno effettivamente a cuore l'utenza innanzitutto domestica e poi le piccole imprese. Perché poi tra l'altro il disegno di legge si prefissa lo stesso obiettivo di 15 anni fa, ovvero abbassare il prezzo dell'energia. Noi dobbiamo effettivamente prendere esperienza dal passato e non ripetere gli stessi errori. Perché è importante sapere che il mercato non si autoregolamenta, anzi ha bisogno di regole chiare e ben definite che in corso d'opera non cambiano quello che poi effettivamente è successo negli ultimi 15 anni. Senta, diamo un consiglio per l'utente. Che cosa bisogna tener conto anche nella scelta del fornitore che poi si andrà a fare? Nella scelta del fornitore ad oggi i parametri potrebbero essere innanzitutto una chiarezza delle clausole contrattuali che vengono sottoposte all'utente stesso e magari avere anche un po' di comprensione nei confronti di persone ignoranti, nel senso che ignorano quello che effettivamente è il sistema elettrico, che in onesta anche io ho delle difficoltà a volte a comprendere i vari meandri. A comprendere la bolletta, veramente molto difficile. Senta, lei lavora al GSE, vogliamo un po' spiegare anche a chi ci sta seguendo che cosa fa questa società? Allora, il GSE è il gestore dei servizi elettrici, è una società pubblica e quando parliamo del GSE SPA è importante dire che si tratta di un gruppo, nel senso che il gestore dei servizi elettrici è la capogruppo di altre due società, l'Acquirente Unico, che appunto ad oggi è la società preposta all'acquisto in borsa e con contratti bilaterali di fornitura del mercato tutelato. È la società gestore mercati energetici, che è la società preposta alla gestione della borsa dell'energia, ovvero dove si incontra la domanda e l'offerta da parte del produttore e dell'acquirente per il mercato libero. Dal 2010 è partita anche la borsa del gas presso i gestori mercati energetici, quindi abbiamo la gestione di entrambe le piattaforme, sia per l'elettrico che per il gas. Voi lì quanti lavoratori siete? Dovremmo essere circa, io con i numeri lascio parlare gli esperti, dovremmo essere circa un migliaio di persone, un migliaio di lavoratori. Siete tutti a Roma o siete dislocati anche nel territorio nazionale? No, siamo tutti a Roma, siamo tutti a Roma e quindi non siamo dislocati sul territorio nazionale. Senta, possiamo dire un po' qual è stato il suo percorso professionale? Il mio percorso è cominciato nel 1984 come idoneo ad un concorso dell'Enel, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Partendo dall'Enel Distribuzione ho lavorato sia in Enel Distribuzione prima, Trasmissione, Enel Trasmissione, poi GRTN, gestore della rete di trasmissione nazionale, ad oggi gestore mercati energetici. E questa, diciamo, mi ha dato modo questa mia escursus lavorativo ad ampio respiro di vedere e di vivere in prima persona il passaggio dal monopolio alla liberalizzazione. Esatto, sì. Senta, e invece, essendo lei RSU, come è stato un po' l'incontro col sindacato, anche qual è la sua esperienza come delegata? Come delegata, dunque il mio incontro col sindacato, l'attività sindacale in sé è cominciata nel 2009. Nel 2009 ed è stata un'ottima opportunità che ho sentito di cogliere, un po' perché credo di avere delle caratteristiche, definiamole, delle empatiche, quindi se non hai una caratteristica personale empatica e propensa soprattutto all'ascolto del lavoratore e della persona, mettendola chiaramente al primo posto, non credo che, insomma, si possa fare questa attività. E' importante perché mi ha dato anche un altro punto di vista del settore, oltre a quello lavorativo anche quello sindacale. Ecco, ma quali sono le problematiche che lei si trova ad affrontare proprio all'interno del posto di lavoro come sindacalista? Allora, noi ad oggi ci troviamo con il GSE, quindi l'intero gruppo, che ha percepito, ha recepito il decreto IRPEF, il cosiddetto decreto spending review. Questo chiaramente ha portato a dettagli, a dettagli dei costi, dei costi operativi. Quindi, tra tutti i costi che sono stati tagliati, superflui e non, quello che ha impattato di più sull'attività lavorativa è stata la mancata stabilizzazione dei contratti di tempo determinato e di inserimento di ragazzi, perché è giusto parlare di ragazzi perché l'età media era 32-33 anni, e il blocco delle assunzioni per due anni. E questo chiaramente ha creato un malcontento, perché poi tra l'altro erano persone appartenenti a direzioni operative, quindi noi oggi ci troviamo a svolgere la stessa mole di lavoro con meno persone, e chiaramente ha creato dei malcontenti. Senta, noi adesso siamo arrivati alla fine della trasmissione, chiudiamo sempre con un appello da parte del lavoratore. Questa è la sua telecamera? Però, come lavoratore, l'augurio che possa fare all'azienda stessa e che faccia effettivamente una riflessione su quello che sono, diciamo, realmente i costi da tagliare, e che possa recepire le nuove norme per creare nuova occupazione. Benissimo, io la ringrazio di essere stata qui con noi. Grazie anche a voi per averci seguito. Vi ricordo il nostro indirizzo mail, labor.tv.it, se volete venire qui in trasmissione e raccontarci la vostra storia. Per il momento con punto di contatto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.